Oggi questo poverino qua ha ricevuto due pregiudicati extra parlamentari, io e Berlusconi, avrei voluto vederlo qua, non lo riesco a vedere, dite non esiste, c'è, cammina, si muove, perché vedo sempre nei vostri TG e nei vostri programmi, vedo dei filmati di due anni fa, di tre anni fa, e io poi pensi che io vada nei talk show a farmi prendere per il culo da dei registi messi lì, Scusate io parlo, è il mio tono normale, non ce l'ho singolarmente con voi, ma è il vostro lavoro, è vero? È il vostro lavoro, è sempre il vostro lavoro, ma io devo fare questo, poi se montano il mio pezzo in una maniera che non è stata così la verità, è il mio lavoro, Signor Grillo, lei è milionario, io devo guadagnare 15 euro al pezzo, devo scrivere, devo scrivere una cosa non vera che poi me la smentisco, sono due articoli, vado avanti, ecco perché siamo al settantesimo posto.